robecco futura chiede all'amministrazione un intervento rapido e risolutore per salvare l'oratorio di san maiolo oggi invaso da muffe e caduta di intonaci ci sarebbero anche dei cittadini disposti a finanziare le opere di restauro ma tuttavia il fatto che si tratti di un bene storico implica che non sia sufficiente un semplice studio di fattibilità per poi dar via i lavori servirebbe infatti una spesa ben superiore che per ora il comune non può sobbarcarsi secondo la giunta barni l'oratorio di san maiolo di proprietà comunale è dedicato ai caduti delle guerre versa ancora in condizioni pietose secondo robecco futura dopo aver messo in sicurezza il tetto qualche anno fa nulla però è più stato fatto e l'opposizione chiede ora la giunta un passo in avanti per riportarlo all'antico splendore la sua sistemazione dovrebbe essere possibile con 30 o 40 mila euro si potrebbe fare un intervento per bloccare quello che è definito il degrado e riportare i dipinti allo stato originale la sovrintendenza ha già dato il suo benestare per l'intervento e come detto alcuni cittadini si starebbero dando da fare per raccogliere i fondi da dedicare al restauro sappiamo che la giunta e i dipendenti comunali si sono dati da fare per affrontare la questione da un punto di vista burocratico ma per ora tutto tace e continuano da robecco futura vi sono molte possibilità se le casse del comune sono vuote per intervenire si potrebbe secondo loro utilizzare i fondi ad esempio del pnrr oppure ancora ricorrere a fonti alternative come il crowdfunding secondo robecco futura però una cosa è certa san maiolo in queste condizioni non fa certo onore a robecco né soprattutto ai caduti a cui è dedicato